Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia. Per mesi abbiamo sentito servizi, abbiamo letto notizie sulla siccità. I fiumi, soprattutto nel nord, erano quasi asciutti, si temeva davvero una situazione incredibile anche per quanto riguarda il Po. Ebbene, questo maggio e questo giugno hanno stravolto un po' tutto. Ma è finita? Ci dovremmo attendere un'estate un po' diversa. Cosa sta davvero accadendo al clima? Si parla appunto di di clima impazzito, di situazioni che non sono ormai più sotto controllo. Le famose quattro stagioni ce le possiamo dimenticare. Ma parliamo di tutte queste cose con Vincenzo Inzinga, che è il meteorologo di Trebbi Meteo. Bentrovato. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, iniziamo subito appunto a parlare di questi temi. Innanzitutto, ci può fare un po' le previsioni per i prossimi giorni? Beh, sostanzialmente si proseguirà sulla falsa riga del mese di maggio, ovvero un'anomalia a livello pliometrico positiva interesserà la nostra regione, per cui sono attese nuove piogge. Diciamo che una breve tregua ci interesserà nel corso dei prossimi giorni, con precipitazioni limitate più che altro alle aree interne e montuose, squisitamente nelle aree pomeridiane, per cui un inizio di giornata all'insegna del sole, poi nelle ore pomeridiane temporali improvvisi in formazione nelle aree interne e montuose. Attenzione perché poi però a metà mese ci risiamo, perché si riforma un centro di bassa pressione proprio sul Mediterraneo, quindi probabilmente fra il 14 e il 17 una nuova andata di maltempo interesserà l'intera Sicilia. A noi c'è stato sempre detto che le previsioni, quelle diciamo più corrette, non si spingono oltre ai tre giorni, no? Questo è diciamo quello che è corretto. E non è così? No, vedo che scuoteva la testa. Beh, no, direi che sostanzialmente la predicibilità atmosferica è abbastanza elevata ormai con le nuove risorse di calcolo messe a disposizione, quindi con i nuovi modelli fisico-matematici che noi meteorologi utilizziamo, direi che l'attendibilità si è elevata molto nel corso degli ultimi decenni. Sostanzialmente ci muoviamo nell'ordine dei 3-5 giorni come attendibilità elevata, poi la predicibilità comincia a calare fra il quinto e il decimo giorno a livello di scenari, dunque di linee di tendenza che nulla hanno a che fare con le previsioni a cui siamo abituati, per cui le previsioni quelle orarie sulla singola località, possiamo spingerci anche oltre i 10 giorni, facciamo delle previsioni settimanali, quindi probabilmente a volte è lecito spingersi fino a previsioni mensili che però delineano degli scenari, dunque non delle previsioni puntuali ora per ora sulla singola località. È un po' quello che sta accadendo in questi giorni in cui anche a Trebimetro stiamo elaborando delle previsioni stagionali, previsioni mensili, quindi per il mese di giugno, per il mese di luglio, per il mese di agosto, ma ovviamente si tratta di scenari a lungo termine, delle linee di tendenza che si basano su quelle che sono le anomalie, quindi noi possiamo prevedere se sarà un'estate più calda del normale o più piovosa del normale, ma ovviamente non possiamo prevedere se il 24 agosto nel pomeriggio si può fare il banchetto diciamo all'aperto. E che estate sarà allora? Beh questa direi che è proprio, cominciamo bene, la domanda delle domande. Secondo le primissime proiezioni a lungo termine dovrebbe essere un'estate un po' meno calda rispetto all'ultima, anche perché l'ultima ha battuto sostanzialmente ogni record, quindi temperature leggermente sopra la norma rispetto a quelle che sono le medie climatologiche, ma attenzione perché sembrerebbe anche un'estate un po' più piovosa del normale, soprattutto al nord e sulla Sicilia settentrionale. Sembrerebbe infatti che i famosi celeberimi temporali, quelli di calore che si formano sostanzialmente nelle ore più calde del giorno, nelle aree interne montuose, quest'anno potrebbero andare a interessare anche la Sicilia settentrionale, per cui è lecito attendersi dei temporali pomeridiani anche nelle aree costiere nel mese di giugno, ormai diciamo che si sta avviando verso un mese sostanzialmente più piovoso della norma, ma anche tra luglio e agosto non mancheranno gli acquazzoni pomeridiani persino sulle aree costiere. Chi dice la verità? Il professore Prodi che appunto ha detto che comunque il clima è sempre cambiato, che quindi non c'è questo impazzimento di cui si parla, oppure tutti quelli che temono appunto puntano il dito su questo clima impazzito? Beh, io preciso che mi occupo di previsioni del tempo, per cui il ramo della meteorologia va distinto da quello della climatologia. Effettivamente, come faceva riferimento lei, ci sono un paio di fazioni nell'ambito della climatologia, ci sono delle scuole di pensiero, sì possiamo categorarle così, il discorso è che effettivamente ci sono dei fattori astronomici, quindi quelli legati ad esempio all'attività solare e poi probabilmente anche delle ripercussioni a seguito dell'attività antropica, per cui l'aumento della concentrazione del gas serra che può interessare il nostro globale, che può eventualmente aumentare anche l'entità del riscaldamento globale. Ebbene, direi che ci sono entrambi i temi. Quello che possiamo notare invece a livello proprio di meteorologia pura è che tutti, dico tutti gli scenari descritti dai climatologi sulle conseguenze di questo riscaldamento globale, a parte un aumento delle temperature che stiamo oggettivamente registrando, è sul nostro pianeta, ma anche a scala un po' più ristretta, quindi anche sulla nostra regione le temperature sull'Italia stanno lentamente aumentando, anno dopo anno, stiamo parlando di mezzo grado, ecco non è che stiamo parlando di valori eccezionali, però ecco questo trend che sta facendo osservare un aumento delle temperature, ebbene non si sposa con altri tipi di scenari descritti fin qui da chi si occupa di elaborare queste previsioni a lunghissima gittata, mettiamola così. Mi vengono in mente delle previsioni un po' più apocalittiche, quelle che faceva riferimento lei delignavano un'estate piuttosto secca, quindi dopo la siccità che ha interessato oggettivamente tutta Italia, tra la seconda parte dell'inverno e la prima parte della primavera, dunque ci ricordiamo benissimo i telegiornali nei mesi di febbraio, nei mesi di marzo, praticamente si poteva camminare anche sul lago di Garda, ebbene questi scenari proiettavano delle proiezioni a lungo termine che facevano pensare anche a una seconda parte di primavera all'insegna della siccità, poi sarebbe arrivata l'estate, quindi sostanzialmente si era dipinto uno scenario apocalittico all'insegna proprio della siccità estrema, così non è stato, questo perché succede? Perché queste previsioni basate su quello che stiamo analizzando, quindi sull'osservato, non sempre si possono proiettare sul futuro. Abbiamo a che fare con un sistema complicato, che è quello dell'atmosfera, regna il caos, sappiamo che anche un battito di ali di una farfalla su Roma può andare a generare un temporale, addirittura un uragano in Giappone, quindi basta poco per cambiare davvero tutto, non riusciamo a fare delle previsioni, quindi in questo caso è bene non avventurarci in degli scenari che poi vengono puntualmente disattesi. Quanto alla nostra regione mi viene in mente il fatto che gli impianti scistici, località come Piano Battaglia, ma anche Rifugio Sapienza, quindi sui monti della nostra regione sarebbero stati col passare degli anni inutili, invece abbiamo visto come gli ultimi inverni sono risultati piuttosto nervosi sui nostri monti. Quindi lo scenario è quello di un cambiamento costante, nel senso che praticamente c'è sempre la possibilità che le previsioni alla fine vengano un po' smentite, anche quelle apocalittiche, perché abbiamo avuto per esempio, si è parlato tanto di questo mese di maggio, un mese di maggio molto molto piovoso, addirittura più piovoso del 1966, quando sono nato io, io non me lo ricordo, però mi dicono, mia nonna mi diceva appunto che era stato molto piovoso, addirittura più piovoso del 1921 addirittura, diciamo in qualche modo. Quindi alla fine non ci sono delle, in meteorologia delle regole precise, delle, degli schemi precisi, no è così? Guardi, guardi, laddove ci fossero basterebbe consultare il calendario astronomico, quindi aspettarci un'estate in cui fa caldo, l'inverno in cui fa freddo, la primavera in cui c'è il sole o piove e poi magari nella stagione autunnale aspettarci dei temporali forti, ma non sempre è così, esiste la meteorologia proprio perché ogni stagione fa storia a sé. Lei faceva riferimento giustamente ai ricordi di sua nonna, ebbene spesso l'uomo ha la tendenza ad avere la memoria corta, mi viene in mente l'alluvione dell'Emilia Romagna, si ripropose uno scenario simile nel lontano 1636, quando non si parlava assolutamente di cambiamenti climatici, di emergenza climatica, di riscaldamento globale, dunque fenomeni che si sono sempre registrati, l'acqua arrivava al secondo piano delle abitazioni dell'Emilia Romagna anche nel 1600, quindi per intenderci sono fenomeni che sebbene possono aumentare la loro frequenza, quindi tendono eventualmente a riproporsi in maniera più frequente, però sono sempre esistiti. La memoria dell'uomo invece è attenzione, perché comunque bisogna sempre prenderla con le pinze. Io vengo da un paesino della Sicilia, a Mistretta si trova in montagna intorno ai mille metri, ricordo che mio nonno mi raccontava di stagioni invernali sistematicamente sommersi dalla neve, in cui non si andava a scuola perché c'era sempre un metro di neve. Poi vado a verificare negli archivi, e questo non torna, perché comunque ci sono state stagioni molto calde, anche negli anni 60-70, stagioni molto fredde nel 2000, ricordiamoci il capodanno del 2015, quindi quando nevicò persino a Palermo, ecco tra il 2014 e il 2015, poi l'epifania successiva fu caratterizzata da un'incursione di aria gelida dalla Siberia che andò ad investire anche la Sicilia, ecco quindi è sempre bene utilizzare in questo caso il verbo diciamo al passato remoto, nevicò anche in pianura, non nevicava, perché il nevicava lascia intendere una frequenza che è cambiata, ebbene da questo punto di vista sotto il piano della pluviometria non è mai cambiato nulla, sia dal punto di vista degli accumuli totali nell'arco di un anno, dal 1920 al 2020 non esiste nessun trend, sia perché poi si parlava anche di eventi che si registrano magari con lo stesso accumulo pluviometrico, ma cambia l'entità della precipitazione, l'intensità della precipitazione, ebbene anche come numero di giorni piovosi sostanzialmente non è cambiato nulla, riporto un dato presso dall'osservatorio delle acque della Sicilia, tra il 1961 e il 1990 Palermo faceva registrare una temperatura media di 21.5 gradi centigradi, tra il 71 e il 2000 fa registrare le 21.7 gradi centigradi, quindi un leggero aumento delle temperature, ma sotto il piano della pluviometria non cambia nulla, perché stiamo parlando di 745 mm in 83 giorni nel trentennio 61-90 contro gli 855, quindi un leggero aumento in 82 giorni, quindi con gli stessi giorni piovosi ha fatto lo stesso accumulo, anzi addirittura è piovuto un po' di più, quindi questi sono dati perché noi andiamo a, è bene ricordarlo, quindi bene, benvengono le testimonianze, diciamo delle documentazioni che arrivano dall'opinione pubblica perché possono aprirci lo sguardo a quello che accadeva anche in passato, però ci sono anche poi le rilevazioni, la Sicilia è dosata di una rete di rilevamento delle stazioni meteorologiche a cura del servizio informativo agrometrologico siciliano che ci consentono di avere un monitoraggio capillare, bene, come accennava lei questo maggio il risultato, perché si raccolgono le acque piovane, sostanzialmente cosa accade? Ci sono delle stazioni meteoriche che oltre a monitorare la temperatura, la pressione atmosferica, l'unità relativa, vanno anche a registrare quanta acqua è caduta su un determinato luogo, quindi su una determinata aria, quindi dei pluviometri sostanzialmente sono dei contenitori, in base all'altezza dell'acqua accumulata che si misura in millimetri, questi millimetri sostanzialmente equivalgono, ogni millimetro equivale a un litro d'acqua, un litro d'acqua per ogni metro quadrato di superficie, ebbene si vanno a rilevare questi dati e poi si va a osservare quello che è accaduto, ebbene è accaduto che come diceva lei questo maggio è risultato essere il più piovosso di sempre, quindi degli ultimi cento anni, dal 1921, quindi da quando sostanzialmente esiste la meteorologia in Sicilia, non è mai piovuto così tanto, attenzione, dato ancora più eclatante rispetto all'accumulo pliometrico, sono i giorni piovosi, perché è piovuto per ben 28 giorni su 31, quindi attenzione perché si tratta di dati veramente eccezionali, appunto 28 giorni su 31 nel mese di maggio è difficile che verranno replicati in futuro. Lei che si occupa appunto di clima e di meteorologia, in Sicilia è una delle poche regioni che non ha un servizio, anche se si parlava del Sias, non ha un servizio meteo regionale, diciamo abbastanza istituzionale, quindi ci si affida a Trebbi Meteo, ci si affida a tante altre app e altri sistemi, però non sono diciamo tarati in maniera precisa sulla Sicilia, almeno questo è quello che mi spiegano anche alcuni suoi colleghi, per questo alcune volte le previsioni non sono del tutto precise, nel senso che io uso molto la moto, vado a vedere alcuni siti e tante volte mi sono pure bagnato perché non era prevista pioggia e invece poi regolarmente ha piovuto. Voi che vi occupate di questo, state lavorando per cercare di sensibilizzare un po' l'ambiente e creare questo sistema meteo regionale? Perché mi dicono che siamo in due le regioni che non hanno un in Italia, che non hanno un sistema meteo regionale. Direi che andrei a separare gli aspetti, ecco quanto a Trebbi Meteo direi che il nostro obiettivo è sbagliare il meno possibile, perché comunque in meteorologia... No ma non era per attaccare Trebbi Meteo, dico è per dire anche il meteo.it, diciamo tutti, il meteo.it, meteo.it, dico non voglio fare una questione di questo video. No no ma assolutamente, noi siamo, le nostre previsioni sono soggette costantemente, quindi quotidianamente a un sistema di controllo della qualità. Sostanzialmente l'obiettivo nostro è quello di sbagliare il meno possibile, ma siamo i primi a essere consci del fatto che sbagliamo e sbaglieremo sempre, quindi le previsioni purtroppo locali ora per ora evidentemente sono soggette a un margine d'errore che poi dipende dalle situazioni, però l'obiettivo è chiaramente quello di sbagliare meno rispetto ai competitor e da quel punto di vista siamo orgogliosi del fatto che ci stiamo difendendo bene anche al sud. Quello che però a cui faceva riferimento direi è una cosa ancora più importante, perché si tratta di protezione civile, si tratta di salvare i teomani, quindi la mission, la protezione civile, quello di lenire gli effetti poi sul territorio di quello che è un fenomeno meteorologico più o meno estremo. Le famose allerta, no? Allerta rossa, gialla, arancione... Assolutamente, Trebimetro ad esempio non può emanare un bollettino di allerta, quello è la protezione civile che è deputata, è l'organo preposto per emanare questo tipo di bollettini di allerta, ebbene, come diceva lei, la Sicilia è una ormai delle ultime regioni, sostanzialmente sono ormai rimaste due regioni che non sono dotate di autonomia da quel punto di vista, dunque la protezione civile regionale recepisce delle previsioni di Roma, quindi lei capisce bene che non sono previsioni che possono avere il dettaglio che ormai oggi sono... è fondamentale, perché il meteo è fondamentale oggi nella vita di Milano. È fondamentale, l'abbiamo visto in Emilia-Romagna, si parla dei morti in Emilia-Romagna... Anche qua da noi l'abbiamo visto, perché quello che è successo a Comiso, quello che è successo anche l'anno scorso con quelle precipitazioni, quello che è successo per esempio a metà luglio a Palermo, quando si è allagato praticamente via le regioni siciliane per una intera giornata si è pensato che là sotto c'erano delle persone che erano morte, non so se si ricorda sicuramente, e quindi dico, sono dei dati, delle informazioni ormai necessarie e fondamentali, e più precise sono e più dettagliate sono, più aiutano diciamo la vita di tutti, no? Assolutamente, quando parlavamo delle 32 vittime purtroppo di Giampilieri si faceva riferimento al fatto che questi fenomeni meteo estremi spesso sono imprevedibili, sì a volte lo sono però purtroppo ormai, purtroppo anzi per fortuna, direi nella maggior parte dei casi ormai appunto come dicevo prima, con l'aumentare delle risorse di calcolo messe a disposizione dei meteorologi, quindi con modelli fisico-matematici più performanti, più sofisticati, ormai si riescono a cogliere anche episodi di questa portata. Possiamo chiederle così in conclusione, che stiamo finendo, e allora ci fa il punto della situazione di quest'estate? Dico, non voglio farle fare il mago, il mago diciamo è giusto, ma che estate ci dobbiamo aspettare così? Quindi piovoso, giugno, luglio un po' meglio, agosto, settembre? Guardi, se c'è una connessione tra il riscaldamento globale e quello che poi invece riusciamo a vivere nella quotidianità, quindi sugli aspetti un po' più meteorologici, quelli con cui magari ci si confronta anche in ascensore con uno sconosciuto, quindi fa caldo, fa freddo, quello che ci tange poi nella quotidianità, quindi l'aspetto, quello che tempo fa su una determinata area, bene, possiamo dire che il riscaldamento globale, secondo alcuni studi, fa sì che, non il riscaldamento globale in assoluto, ma un riscaldamento globale che fa manifestare su effetti più al polo nord che all'equatore, fa sì che si intensificano gli scambi meridiani, cioè le masse d'aria dal nord Europa raggiungono il Mediterraneo e quelle dal nord Africa risalgono verso il nord. Questo tipo di configurazione, fa sì che spesso si creino delle situazioni che noi chiamiamo di blocco, ovvero in cui i regimi assumono dei connotati di stazionarietà, ebbene, la legge della persistenza che in meteorologia lascia il tempo che trova, ma che a volte effettivamente può avere un suo perché, ebbene, secondo queste previsioni, diciamo, a livello stagionale, sembrerebbe che il mese di giugno cerchi di avere le peculiarità del mese di maggio, quindi molta instabilità atmosferica su tutto il paese. Poi, tra luglio e agosto, sembrerebbe che le precipitazioni, sempre per la latitanza dell'anticiclone, quindi attenzione, questo è un dato importante, secondo le proiezioni stagionali, l'anticiclone sarebbe latitante, lo è stato nel mese di maggio, sarebbe latitante anche nel mese di luglio, quindi nel mese di giugno, quindi niente anticiclone delle azorre, quindi quello un po' più mite oceanico, ma anche niente anticiclone nordafricano, quindi quello decisamente più caldo. Ancora nel mese di giugno, quindi temperature tutto sommato in linea con la norma o addirittura leggermente inferiori, poi tra luglio e agosto questo anticiclone sembrerebbe raggiungere almeno le regioni del sud Italia, dunque temperature che torneranno su valori finalmente pienamente estivi, ma attenzione perché comunque di quando in quando qualche perturbazione passerà e soprattutto a nord Italia aggiungeranno acquazzoni, rovesci temporali e anche la nostra regione, quindi la Sicilia, nelle aree interne e montuose vedrà dei brevi acquazzoni nelle ore pomeridiane, come accennavo prima, con qualche sconfinamento anche verso le coste settentrionali, quindi tra palermitano, tra panese, ma anche a volte sul messinese, quindi diciamo che un'estate non come quella scorsa, non un'estate all'insegna del caldo intenso e duraturo, un'estate all'insegna del caldo normale e poi di quando in quando passerà anche qualche breve perturbazione, quindi non mancheranno gli episodi piovosi. Quindi ombrelloni e ombrelli, come dicevamo prima, diciamo. Beh direi maggio e giugno, più ombrelli che ombrelloni, tra luglio e agosto, mettiamolo così, si potrà andare al mare, però bisognerà rimanere sempre aggiornati sull'applico sempre aggiornati, perché gli acquazzoni improvvisi potranno raggiungere un po' tutte le aree della nostra regione. E quindi voi diventerete sicuramente più precisi e quindi possiamo seguire tranquillamente Trebbimeteo. Diciamo che non potremmo farci le nostre ferie, che solitamente per quelli che si occupano delle previsioni della Sicilia, tra fine giugno e primi di settembre mettiamo sole ovunque, quindi possiamo goderci le ferie. Mi sa che quest'anno non sarà proprio così. Bisogna lavorare. Va bene, io la ringrazio davvero tanto, Vincenzo Insinga, appunto, di Trebbimeteo, spero di averlo ospite per altre puntate, per altre previsioni, appunto, per cercare di capire come, come si andrà avanti questa estate un po' bizzarra. Io vi auguro davvero una buona giornata e vi saluto e ci vedremo alla prossima puntata. No Grazie a tutti.